Ciao ragazzi, sono Busta, quest'anno ci vediamo al Tour Music Fest e sono molto molto felice. Insieme a Subsonica qualche palco l'abbiamo calcato, quindi sono contento di dirvi che sono anche uno dei coach a una delle finali. Ma non solo, perché io ho la grande fortuna e il privilegio di fare della mia passione quello che mi dà da vivere e che mi fa svegliare, soprattutto al mattino. Faremo anche una masterclass insieme, se avrete piacere, quindi potremo scambiarci racconti, esperienze, quello che volete. Io sono a vostra completa disposizione. Ringrazio Algameco, ringrazio il Tour Music Fest per avermi invitato quest'anno, vi auguro di passare un buonissimo tempo e vi auguro soprattutto di poter fare sempre e per sempre quello che amate. Il claim è We Love Your Music. Allora ok, We Love Your Music. Oh Music. Allora ok, We Love Your 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 Music.